Jingle Bells Jingle Bells Salve, sono Fabio, il vostro Raider Scusate ma noi non ci siamo... Non penso proprio! Scusate, errore mio allora, sono Fabio, il vostro Raider, avete fatto l'ordine sull'app, giusto? Mamma mia, ho visto la tua forza, è troppo bello! Grazie, questo è il vostro ordine, prego Emanuele, il tuo primo regalo! No, non è un regalo, l'avete pagato e io ve l'ho portato, avete capito, prego? Prego Siete bloccate? Ecco... ecco... Ah, pochè, scusate ma che stai scaladito? Entra! No, non c'è bisogno, vi lascio il pacchetto e me ne vada Non può entrare! Se proprio insistete, un caffè caldo me lo prendo volentieri Non può entrare! È che facile, voi ho luato, voi ho mettito, fatemi una cortesia, mi date il codice cortesemente? No, telecamera! No, ma quella telecamera? No! No, mi serve semplicemente il codice perché se mi scade la consegna mi ha rotto... Hai rotto il cazzo! Scusate, ma come vi permettete? Oh, che paura! Ha pulito o no? Con mollica o senza? Ah, perché che mollica? Ma che si può fare? Simone! Non mi chiamo Simone, mi chiamo Fabio, già l'avevo detto un sacco di volte Simone dove sei? Scusate, ma voi siete il signor? Valentino, chiaro Ah, scusate, allora ho sbagliato io Andrea, già lo sai Ah, allora non ho sbagliato Fabrizio, conosciuto anche come il fresco di zona Ah, è proprio stronzo Con mollica o senza? Non ci sa mollica, avete ordinato Con affetto e con amore Eda mamma È arrivato il cicciolo Non date, che sta mille Con affetto e simpatiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Ma che è stata? Hai rotto il cazzo Scusate, ma come vi permettete? Comunque datemi il codice se no non bozzia cazzo Martina, Martina, non farmi arrabbiare Voi non state facendo la genivina Ma quanti paccotti Paccetti Uno sulla L'avete ordinato? Povero, cambiano asia hai perduto la compagna sentite ma come fa! come fa nessuno... dammi problema scusate ma cosa... manue puoi diciamo mamma fa e.com ti fa un pin star ma che cosa mi le cantano Sarà lui, sarà lei! Ti scassate a rari! Allora dove si trova a Crasta a Torino? Ehi che cazzo ne sace! Lì c'è la mole, seguimi! No non arriviamo a Torino facciamo solo Napoli! Ma che cavolo combini? Ma vattene via a Napoli! Sì, come do no sto pacchetto a cò? Pacchette se riesce a pacchette! 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 Per favore non piangere! Sì, sentite, non mi sto in nervosente, non mi sto portando a me! Ma fatto un capodanno in casa senza l'occhio? No, però se non mi pavono, ci fanno farsi il rapido! Attenzione, borsaggiatrici, picchi pacchette! Ero un iperbole, proprio faccio! Sentite, non ve lo faccio un pacchetto! 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 Non ne mangi! Non ne mangi! Non ne mangi! Non ne mangi! Uno o due! Skip sti cosa! Non ne voglio! Non ne metto sei o due! Eh, ci vuoi! Vai, fratello, giuono! Eh, sto fratello, giuono! Non lo sai, la barba, minchia, la barba! Sentite, non ce la faccio, ci la vedete ci fattere! Basta! 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 No! Mi scaduto la consegna! Ha già perso un euro e cinquanta! Siete contenti adesso? Siete contenti? Sto faticando stamattina con una bicicletta sotto l'acqua! Già sono caro di sei volte! Ha già perso il tempo che ha presso a voi con queste strunzate e ballette fra fra tic toc! Qua c'è gente che sta lavorando, avete capito? Eh, prendetevi un po' che stasera è gratis! Grazie! Ah, un po' scusate eh! Non volevo prendere con voi! Forse esagerate un po', certo! Come si riesce, ogni lavoro ha le sue... Complimenti! Ma chi sta nato? Ah no! Perché mi pare... Scusa, giovane! Mi porti una porzione di patate! Ma va a fare buule! Però anche una piccola frangata di cociacca e maioa! C'è una pezzata! No, non te lo dimenticare perché mentre arrivano le birre già si fanno... A me! Salve, sono Gianluca, è il vostro rider, vi ho portato la birra, se mi date il codice effettivamente la consegna... Scusate, gruppo delle mamme, è un'informazione, le sottrazioni in colonna 20-18, se lo fai a mente 20-18 fa 2, ma se li metti in colonna 2-1 fa 1, 0-8 fa 8 fa 18, ma non fa 18! Scusate! Scusate! Comunque mi piace! C'è quel carattere che subito... Hai capito? Sei schiatta! Come si dice? Scusate! Scusate! C'è quel carattere che subito? 86 Grazie! Arrivederci! Buon anno!